Il numero dei contagi continua ad essere alto e la tragica lista dei decessi si allunga di giorno in giorno. Nel Salernitano l'emergenza Covid è ancora in una fase avanzata e l'allerta resta massima. Nelle ultime 48 ore, altre 5 persone hanno perso la vita sul territorio provinciale. È salito a 5 il numero dei decessi registrati a Bracigliano, dove ieri hanno perso la vita altri due anziani nella città della Valle dell'Irno. Le preoccupazioni principali sono legate al focolaio che ha interessato una struttura per anziani, nella quale sono stati riscontrati 47 contagi, una situazione monitorata costantemente dall'Asla e che secondo il sindaco Antonio Rescigno non presenterebbe casi di pericolo. 5 anche le vittime a Casaletto Spartano, dove ieri ha perso la vita una donna di 91 anni, lutto a Battipaglia, per la morte di un 75enne ricoverato ad Eboli e ad Albanella per la scomparsa di un 53enne. i contagi che, nonostante un lieve calo, continua ad essere elevato, non a caso il sindaco di Altavilla Silentina ha disposto il divieto di fumo all'aperto per provare a limitare i contagi sul territorio comunale. Sicuramente è una novità, però serve a far sì che le persone non vanno i gruppetti, si abbassano la mascherina e possono contagiarsi tra di loro, perché più di una volta è stato segnalato pure dai vigili urbani, dalle forze di polizia che purtroppo quando si fuma non si può sanzionare la persona sulle piazze pubbliche, sulle file agli uffici pubblici che si fanno posta, eccetera. Grazie. Grazie. Grazie.